Le nuove poltrone del cinema terminale sono state pagate grazie alla generosità dei pratesi. In quattro mesi, da quando è stata lanciata la campagna raccolta fondi, sono stati raccolti 5.000 euro, una cifra superiore al costo del nuovo arredo. Io direi che è stato davvero un raggio di sole in questa situazione piuttosto complicata. Abbiamo avuto più di 100 sottoscrittori, siamo riusciti a superare l'obiettivo che c'eravamo prefissi sui 5.300 e rotti euro, un aiuto per un investimento per noi importante. Il rinnovo delle poltrone però non è stato sufficiente a richiamare il grande pubblico, abituai degli spettacoli domenicali che scontano ancora la paura del contagio, nonostante il cinema sia un luogo sicuro. Le poltrone nuove che sono state posizionate a metà settembre è un segnale di incoraggiamento per continuare in un'attività molto complicata, difficile, vista la situazione. Il cinema sta riprendendo piano piano e speriamo insomma di ritornare ai livelli prima della pandemia. Ci vorrà tempo ma siamo fiduciosi e soprattutto ancora molto appassionati.